La Lega Nazionale di Lettanti ha reso note le sette società che sono già state ammesse alla Serie D per la stagione 2020-2021. Nessuna Toscana risulta nell'elenco. I club che saliranno di categoria sono Città di Sant'Agata, in Sicilia, Putoelana, Campania, Sestri Levante, per la Liguria, Treppini-Matese, Molise, Visnova-Giussano, Lombardia, Rotonda e Saluzzo. Quest'ultime due società ha la primo posto nelle classifiche cristallizzate del Girone Unico di Eccellenza della Basilicata e del Girone B di Eccellenza della Piemonte-Valle d'Aosta. Per queste si è tenuto conto del merito sportivo, del primato ottenuto a parità di gare disputate e dell'ampio distacco sulla terza classificata. A proposito di prossima stagione ci sono delle novità regolamentari per la Serie D riguarda la struttura dei campionati e le norme sui giovani in quota. Tutti i club hanno scelto attraverso il referendum quattro under obbligatori, un giocatore del 1999, uno del 2000, uno del 2001 e uno del 2002.